Lo so che non vi aspettavate un mio video di martedì però sono gasato per il fatto che youtube mi ha sbloccato finalmente il canale e sono ritornato a fare contenuti per voi che ho deciso appunto di fare questo appuntamento straordinario per ritrovarci tutti insieme a dare un'occhiata ai nostri amati grafici delle cripto. Quello che facciamo un po' di solito il venerdì nei live insomma però in non in diretta insomma in differita. In live tra l'altro faccio un piccolo appunto così da soddisfare magari la vostra curiosità su quanto è accaduto al mio canale sono stati cioè è stato il live di venerdì scorso ciò che ha diciamo così dato il falso positivo agli algoritmi di segnalazione dei contenuti di youtube probabilmente che hanno hanno stretto molto la cinghia in vista cioè dati i numerosissimi scam che sono stati organizzati ultimamente da questi insomma hacker che rubavano i canali e facevano trasmettevano quei finti live con delle interviste vecchie ad esempio di vitalik buterin piuttosto che del CEO di coinbase a volte c'era addirittura ilon musk e facevano dei falsi giveaway del tipo manda 01 bitcoin teneri mando 02 ecco quelle erano delle truffe glamorose e giustamente da un lato youtube ha cercato un po' di limitarne i danni però ahimè poi va a finire che vengono colpiti anche i canali innocenti come il mio solo per il fatto che trasmettiamo live magari a tema criptovalute con certe keyword vaci a vedere fatto sta che io ho preso una decisione ed è stata quella di trasferire d'orin poi i live sulla piattaforma twitch che è una piattaforma simile a youtube di proprietà di amazon anziché di google dedicata interamente al live streaming quindi è fatta molto bene è molto carina vi consiglio di iniziare a darci un'occhiata perché i prossimi live saranno trasmessi in diretta per l'appunto lì e non più su youtube su youtube li riposterò una volta terminati però l'interazione in diretta sarà esclusivamente su twitch quindi vi incentivo appunto a registrarvi a darci un'occhiata perché è la cosa cui tengo di più poi la la diretta rispondere alle vostre domande interagire con voi vorrei addirittura sfruttare la cosa lo sbarco sulla nuova piattaforma twitch per magari dare più enfasi a queste dirette per stare più dietro alle vostre domande prima addirittura dei miei monologhi sui grafici e per avere più interazione perché twitch lo permette ne parleremo meglio nei prossimi giorni e vi spiegherò anche come seguirmi come trovarmi appunto su twitch nel frattempo vi consiglio di darci un'occhiatina vi lascio il link giù nella descrizione così che possiate iniziare a esplorarla e perché no farci un account buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati oggi più che mai a analizzare tutti insieme i grafici siamo tornati in un momento in cui fortunatamente bitcoin non sta facendo grosse mosse quindi non ci siamo persi niente in questi giorni oggi andiamo a riprendere da dove ci eravamo lasciati quindi andando a vedere i grafici a che punto sono cosa ci comunicano quali sono gli scenari plausibili e come affrontarli con i nostri amati trades vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video i miei contenuti e se siete contenti che sia tornato per favore lasciatemi un like anche a questo video che mi gasate già sono gasato oggi ma mi gasate ancora di più e mi incentivate a continuare a produrre contenuti sempre più di qualità iscrivetevi al mio canale e cliccate su attiva tutte le notifiche così ricevete subito appena escono i miei nuovi video e seguitemi anche sugli altri canali social così se mi richiudono il canale sapete dove trovarmi e trovate tutti i link in descrizione ora basta chiacchiere e andiamo a vedere i grafici mi raccomando intanto andate a vedere anche twitch poi grafici definire bitcoin indeciso è quantomeno un eufemismo andiamo a inquadrare un po la situazione cerchiamo di capire quali sono gli scenari possibili e i livelli e i movimenti che li determinerebbero abbiamo allora partiamo dall'alto quindi da un time frame magari un po più ampio come può essere il settimanale giusto per avere il quadro completo e poi andare a vedere il dettaglio nel settimanale adesso non considerate tutte queste righe che alla fine sono tutti supporti importanti appunto tracciati su time frame settimanale che è il time frame sul quale io tendo a tracciare i supporti in quanto si rivelano poi essere quali più significativi in assoluto sul settimanale è una giusta via di mezzo tra high time frame e low time frame un po il ciò che dà l'idea sulla direzione del mercato nel medio periodo qui siamo in palese bear market vedete abbiamo dei lower highs e lower lows in continuazione e l'ultimo lower low è stato quello di poche settimane fa in corrispondenza insomma al mega dump che ha coinvolto tutti i mercati all'inizio di marzo c'è stata quella famosa corsa alla liquidità ok quando sia il mercato azionario sia il mercato addirittura delle commodity oro compreso sia ovviamente il mercato cripto sono andati sgonfiandosi in quanto appunto la gente correva la liquidità vendeva qualsiasi tipologia di asset un asset illiquido come può essere bitcoin se comparato ovviamente alle sue controparti tra virgolette tradizionali vede in un sell off marcato un uno sgonfiaggio in termini di ampiezza in termini di prezzo notevolmente maggiore perché ovviamente gli order book sono più vuoti c'è più panico e quindi tutto il movimento si intensifica l'apice di questo movimento di dump è stato qua nei minimi tra i 3600 e i 4000 che c'è stato proprio il momento apicale del sell off al quale si è iniziata a presentare della domanda ok della domanda che ha iniziato invece ha innescato questo contromovimento questa sorta di storno rialzista che vuole andare a capire va un po ad esplorare insomma fin dove la domanda ha intenzione di spingersi perché se la domanda si rivela ancora viva ancora vigorosa e volenterosa di recuperare le resistenze e ritrasformarle in supporti allora si potrebbe addirittura parlare di assorbimento del dump altrimenti quello che ci continua a dire questo storno non è altro che appunto l'essere uno storno e quindi il movimento che si frappone tra un dump e l'altro quindi non va assolutamente non è ancora il momento perché non abbiamo nessun tipo di segno ve lo dico già che va ad invalidare lo scenario ribassista che è attualmente lo scenario principale per direzionalità per validità dei time frame del time frame guardate sul time frame settimanale è palese l'essere ribassista addirittura non abbiamo nemmeno recuperato lo swing low precedente con il movimento attuale vedete ci stiamo proprio cozzando contro questo swing low precedente che costituisce poi la prima resistenza forte per davvero difficile da abbattere le altre tutto sommato non abbiamo fatto molta fatica ad abbatterle ma questa guardate l'abbiamo testata una volta due volte 3 4 5 e adesso ci stiamo gravitando intorno con una forza sempre più decrescente da proprio lì che voglio andare a parare oggi è un po quello che vuole essere appunto il fulcro dell'analisi di oggi perché è proprio dall'approccio principalmente con questa area che si definirà quello che può essere l'innesco del movimento successivo e soprattutto ci aiuterà a capire se abbiamo intenzione davvero di recuperare riassorbire il dump oppure se abbiamo intenzione di continuare a stornare e andare ad avere di nuovo come target i minimi il che posticiperebbe ulteriormente e notevolmente qualsiasi scenario bullish alla facciaccia scenario bullish di cui non c'è nemmeno l'ombra è però se andiamo a fare addirittura un altro dump se ne parla veramente dopo tanto tanto tempo alla facciaccia dell'albing ok quindi l'obiettivo di oggi è proprio cercare di razionalizzare la situazione capire come muoversi in base a quello che il grafico ci sta dicendo per adesso il grafico ci sta comunicando tanta tanta debolezza perché abbiamo capito che stiamo approcciando dalla direzione inversa il vecchio swing low che al momento quindi è una resistenza molto forte e nel caso in cui lo dovessimo recuperare qui siamo ancora al time frame settimanale visto che è il time frame di riferimento per capire un po il trend in corso un po più dall'alto che nei movimenti di breve andare a recuperare questo swing low andrebbe ad identificare quel setup che si chiama low reclaim il recupero di un vecchio low banalmente non è niente di particolare però è quel primo sintomo che la domanda c'è ok e che è ancora più forte dell'offerta perché se l'offerta è schiacciante e continua a opprimere la domanda non gli lascia di solito recuperare il precedente swing low vedere uno swing low recuperato soprattutto se con forza perché tra l'altro se vogliamo anche qualche segno in più di cui tra poco magari andiamo a discutere meglio questo swing low vede come zona di bottom per l'appunto locale ovviamente di questo ciclo un range un range della durata di una due tre quattro cinque sei settimane più la settimana di ingresso e di uscita nel range quindi capite che è un range abbastanza significativo questo rende non soltanto il low a 6.900 circa significativo ma anche tutto questo range lo rende estremamente significativo perché perché in questo range immaginatevi di essere l'offerta quindi impersonificatevi nell'offerta nei venditori nei sellers nei bears chiamiamoli come vogliamo e voglio cosa vogliamo fare in corrispondenza di questa area che è stata un livello di accumulazione o meglio di distribuzione volendo parlare in termini ribassisti in passato vogliamo difenderla e quindi non vogliamo che il prezzo la recuperi perché perché se il prezzo la recuperasse sarebbe un segno estremamente forte di predominanza della domanda già il recupero dei 6.900 sarebbe un segno che la domanda c'è ok quindi come per dire ma questa resistenza l'ho battuta ci sono ce la facciamo spingiamo ancora se recuperiamo addirittura tutto quanto il range vuol dire che riusciamo ad assorbire tutta la liquidità in distribuzione che c'è stata in questa zona ok quindi andando a spostare lo scenario paradossalmente verso il bullish quantomeno sul breve dando qualche speranza inoltre in questa area superato questo range abbiamo anche la zona degli 8.000 che è estremamente importante su time frame giornaliero come andremo a vedere tra poco e quindi abbiamo tutta una confluenza di fattori che potrebbe innescare una reazione a catena molto bella per i bulls quindi niente abbiamo capito la situazione abbiamo fatto anche qualche sogno da permabull però non facciamoci prendere troppo dalla fantasia perché al momento siamo ancora in questa situazione con oppressione da parte dell'offerta vedete che non ha intenzione di lasciar passare per ora ogni tentativo d'attacco è stato assorbito e non c'è verso ancora di chiudere all'interno di questo range quindi non c'è verso ancora di superare la resistenza a 6.900 e questo è un primo segno che l'offerta per adesso è in vantaggio un altro segno che comunque il movimento il contromovimento di storno è debole è dato dai volumi i volumi che già su time frame settimanale si vede quanto sono in diminuzione ok vedete che la media mobile dei volumi ha iniziato a flettere ma perché le ultime settimane sono state caratterizzate da volumi nettamente sotto la media vale la pena secondo me a questo punto andare a zoomare un po sul time frame giornaliero per cercare di capire meglio qual è il quadro allora guardate allora partiamo da dove eravamo rimasti perché abbiamo detto degli 8.000 abbiamo solo buttato lì e quindi andiamo a chiudere questo discorso qua gli 8.000 sul time frame giornaliero sono un livello molto importante perché costituiscono un'area di distribuzione nata da queste candeline qui che si interpone tra il primo impulso ribassista e l'impulso di capitolazione chiamiamolo così che ha fatto toccare il bottom quindi riuscire a recuperare gli 8.000 un reclaim confermato intendo quindi immaginatevi la rottura e il retest quanto meno e la nascita di domanda sul retest che è il segno più importante cosa andrebbe a indicare andrebbe a indicare che questo dump è stato assorbito ed è un segnale clamorosamente bullish sul breve quantomeno da spinta perché perché comunque questo che è l'impulso di capitolazione è stato il sell off più forte in assoluto è stato completamente recuperato e non si è palesata domanda in difesa degli 8.000 cioè il test degli 8.000 e un ulteriore dump questa è offerta scusato sbagliato detto domanda offerta in difesa degli 8.000 che confermerebbe invece la tendenza ribasso un reclaim degli 8.000 con invece domanda in difesa degli 8.000 inverta completamente il quadro e sarebbe una gran bella cosa su time frame giornaliero si vedono ancora meglio i volumi in indebolimento vedete che dopo il dump c'è stato uno svuotamento praticamente degli order book perché anche la liquidità è diminuita notevolmente ma c'è anche stato uno svuotamento del come dire delle della forza dei traders perché non hanno più avuto quel vigore di intervenire e di creare movimenti di ampiezza e volumi importanti a parte dei rari momenti sporadici in cui i volumi arrivano bene o male a toccare la media ma non ci sono mai degli impulsi forti che fanno girare al contrario la media che invece ha avuto tendenza decrescente dal dump fino ad adesso a questo si va ad aggiungere un ulteriore fattore di debolezza che è l'open interest l'open interest che va a inquadrare il controvalore delle posizioni aperte sul mercato dei derivati è rimasto abbastanza piatto adesso qui c'è una settimana di time frame andiamo a vedere un mese e un mese così lo mettiamo in corrispondenza col prezzo guardate allora qua è già tutto dopo al dump io volevo magari farvi vedere anche prima del dump eccolo vedete gravitava intorno agli 800 milioni poi c'è stato il dump in corrispondenza del dump si è dimezzato 800 400 ok quindi c'è stato uno svuotamento per ovvi motivi del delle posizioni molte sono state liquidate molte sono state stoppate eccetera eccetera adesso ritorniamo magari all'ultima settimana per capire meglio cosa sta accadendo cioè niente ovvero con i movimenti di prezzo vedete che l'open interest è rimasto è rimasto pressoché invariato c'è questa tendenza ad ogni leggero drop del prezzo di incrementare sensibilmente l'open interest ovvero si aprono un po più di posizioni in corrispondenza dei decrementi di prezzo ma non ha senso trarre conclusioni come dire avventate del tipo allora sono stati aperti degli short non vuol dire perché magari il prezzo mentre il prezzo drop c'è chi fa buy the dip e va ad aprire dei long quindi non ci dice assolutamente nulla non cerchiamo di dare dei significati che non ha l'unico significato interessante dell'open interest è quello un po di carica no di benzina che c'è dentro il mercato e più è alto l'open interest più c'è la possibilità di un'esplosione improvvisa di volatilità al momento rimaniamo intorno ai 500 milioni che è una cifra che non è particolarmente alta quindi non ci dice granché ok questo è l'open interest su bitmex quello cumulativo anch'esso è in leggera crescita però si gravita sui 2 miliardi e prima del damper è il doppio giusto per farvi capire che bene o male le proporzioni rimangono le medesime quindi questo cosa ci dice ci dice che non c'è vigore nel movimento ma in quale movimento allora il movimento nel quale ci troviamo adesso è il contromovimento rialzista questo qua vedete che sta andando a ritestare le resistenze per capire fin dove la domanda può arrivare poco alla volta sale 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 con senza direzionalità in verità perché la direzionalità è ancora impressa chiaramente da queste candelone di dump ma cerchiamo un po di capire fin dove riusciamo ad arrivare e perché no troviamo un punto in cui la domanda si scatena perché può succedere anche quello metti che appunto facciamo il reclaim di questo range e poi si inizia a scatenare domanda iniziano a partire volumi a manetta e saliamo non vuol dire niente non esiste niente di certo tuttavia quello che finora il mercato mi sta dicendo ci sta dicendo il grafico ci sta comunicando è la debolezza di questo movimento rialzista con l'open interest basso i volumi bassi l'ampiezza dei movimenti bassi continui assorbimenti su diversi time frame fatica a rompere i livelli chiave guardate sempre come esempio i 6.900 cioè l'abbiamo testato qua e poi ha dampato di nuovo qua c'è stato un blocco di assorbimento qua lo abbiamo rotto e subito dopo è stato assorbito e adesso non c'è neanche più la forza di muoversi perché ci muoviamo in un blocchetto in un clasterino di prezzo microscopico insomma i 6.900 più che un livello di resistenza stanno diventando un livello di attrazione per il prezzo tuttavia al momento vedete abbiamo questa formazione che spinge cioè come dire trasmette rigetto da parte del prezzo stesso abbiamo avuto un tentativo di rialzo una rottura poi qualche giorno di lateralizzazione e dopo di che vedete una perdita del livello stesso questo scusate è ciò che mi ha triggerato l'ultimo short di copertura che ho aperto da qualche giorno insomma da questo weekend e che è uno short appunto di copertura quindi io non è che sono net short nel senso che mi aspetto al 100% un ribasso e sto speculando su un ribasso sicuro cose del genere no io ho la mia posizione spot long come sempre detto che io ho acquistato i miei bitcoin e ce li ho sempre lì poi utilizzo il trading speculativo i derivati per andare a seguire un po diciamo così i movimenti più di breve nonché a coprire il mio spot long nei momenti in cui c'è un forte rischio di ribasso adesso secondo me il rischio di ribasso è notevole perché per tutte queste cose che abbiamo detto un movimento molto debole che sembra insomma aver raggiunto il suo apice e sembra pronto a scaricare di nuovo sarei più che felice di essere contraddetto perché la mia copertura short per adesso copre poco più del 10% della mia posizione spot il che significa che se bitcoin scende di prezzo ok io comunque in netto vado a perdere perché lo short si guadagna però il mio spot che è molto più grosso dello short va a perdere e viceversa se bitcoin sale di prezzo io vado a guadagnare nettamente mi scende di valore lo short mi perde di valore lo short ma lo spot aumenta quindi questa è una piccola assicurazione ancora prematura perché come vi ho detto si basa su un vabbè si basa su dati comunque abbastanza consistenti perché abbiamo direzionalità ribassista abbiamo questo pattern di potenziale top volendo anche se estremamente prematuro abbiamo l'offerta che finora continua ad assorbire ogni tentativo ma comunque non è ancora detto perché non abbiamo perso dei low non abbiamo avuto dei breakdown notevoli sul settimanale ci sono ancora soltanto candele verdi insomma è una situazione un po borderline per come la vedo io per l'interpretazione che vi ho spiegato prima la vedo come un indebolimento dello storno che ha un contromovimento dopo il dump e quindi come con maggior potenzialità di continuazione ribassista e da lì poi dovremo andare a vedere se andiamo di nuovo a testare i minimi cosa facciamo se facciamo un higher low se facciamo un doppio minimo se addirittura perdiamo i minimi ma lì è ancora il futuro quindi è ancora presto per dirlo però mi raccomando non adagiamoci sugli allori con l'idea dell'halving perché ahimè il grafico trasmette paura cioè trasmette un timore da parte della domanda che non si azzarda ancora a spingere abbastanza per far arrivare il prezzo sopra i livelli chiave quindi detto in termini concreti il reclaim di i 6.900 ormai hanno perso un po la valenza di resistenza in quanto tale sono più diventati come vi dicevo un po l'attrattore quindi il far vedere che la domanda vince sull'offerta in corrispondenza di questo po l'attrattore potrebbe far diventare un repulsore perché c'è quella doppia valenza dei livelli chiave che si trova all'inizio una fase di attrazione che dura un po poi inizia la fase di repulsione da una parte o dall'altra che è tanto più violenta quanto più è durata la fase attrattiva di solito ora non è ancora diventato un point of control mi pare ma poco ci manca perché di volumi se ne stanno generando parecchi ci sarà da vedere se alla fine vincono i buyers o i sellers e quindi se diventerà un livello di distribuzione oppure accumulazione nel caso in cui dovessimo avere una chiara perdita di questo blocco oserei dire questa area guardate che è l'area in corrispondenza della quale si trovano la maggioranza dei volumi a ribasso ok allora è una prima conferma della della visione ribassista una seconda conferma ancora più forte sarebbe la perdita del primo supporto sottostante i 6.100 e in particolare il fatto che in questo pool di liquidità che in passato ha sempre scatenato domanda non ne vediamo più ok non c'è più domanda quindi non c'è più nessuno che compra questa flessione nessun buy the dip quello è un bruttissimo segno e andrei probabilmente a fare compounding del mio short di copertura andrei a coprire ancora un po la mia posizione spot long invece al contrario un recupero di altre resistenze in primis 7.600 è molto importante 8.000 riuscire a recuperare i 7.600 mi riassorbe tutto quel range vi ricordate che dicevamo prima che se andiamo a ingrandire un po diventa sì il point of control e da lì la sua importanza e riuscire a recuperare gli 8.000 sarebbe un segno ancora più forte di domanda proprio perché andiamo ad assorbire in toto tutto questo dump ok quindi questi sono i segni sui quali andrò a decidere poi lo scenario che ritengo più plausibile in base a quello che accade cioè ovviamente se accade lo scenario bullish vado a chiudere il mio short di copertura e rimango con la mia posizione spot e la lascio correre se invece andiamo a verificare lo scenario bearish andrei a incrementare il mio short di copertura per assicurarmi ancora di più dall'ancor più probabile poi continuazione ribassista anche perché ultimamente bitcoin è molto correlato all'SP500 pare e secondo me l'SP500 non è che ha proprio finito di scendere perché non c'è una bella situazione nel mondo ma non è di questo che voglio parlare oggi altrimenti viene un video lungo 4 ore ne parleremo su Twitch nei nostri live ok quindi mi raccomando Twitch dunque volevo portarvi all'attenzione anche altre due coin che sono Ethereum che ha avuto una bella reazione con questo livello di supporto guardate la zona 152 circa che è stata recuperata e questo sembra un reclaim per adesso cioè break retest con tanto vedete di questa candelina qua molto bella che mostra domanda poi è stata ingolfata oggi di nuovo dalla domanda quindi una continuazione di domanda se ci fosse liar high sarebbe veramente carino tuttavia visto la visione ribassista su bitcoin non ha senso andare long su Ethereum dollaro che sarebbe una cosa contrastante con quello che abbiamo appena detto quindi ci sta di più magari andare a seguire Ethereum bitcoin che anch'esso è ben impostato guardate abbiamo questo range un range di durata molto ampia e di ampiezza anche molto grande che è stato rotto a rialzo e adesso siamo in una specie di fase di retest che ci ha fatto qualche piccolo scherzetto ovvero Ethereum non ha retestato il range high questo è un cluster intermedio su time frame settimanale ve lo mostro magari devo zoomare un pochino però è così eccolo vedete adesso facciamo un po' meglio ancora cluster intermedio che origina da qua quindi vedete è un livello chiave il range high vedete di questo appunto range rotto scendiamo andiamo a stornare un po' ci scendiamo ancora sotto lateralizziamo un paio di settimane poi pam impulso rialzista e reclaim del range stesso quindi un falso breakdown se qua adesso rimane una zona di domanda potrebbe essere un livello accettabile un livello carino per andare a impostare un long su Ethereum bitcoin tra l'altro la dominance di bitcoin vedete è discendente per il momento le medie mobili sono impostate in maniera da renderla discendente quindi un'esposizione sensibilmente bassa su un altcoin ci può assolutamente stare sempre parlando di altcoins parliamo di BNB che è il protagonista di oggi perché guardate cosa combina allora anche qua abbiamo un range ne abbiamo parlato ieri nella diretta su facebook che non so quanti di voi hanno visto quindi magari facciamo un recap molto rapido che mi sembra giusto allora guardate time frame settimanale andiamo a identificare questo range su BNB abbiamo innanzitutto un trend di lungo periodo caratterizzato da massi minimi scusate crescenti con questa fase di bolla chiamiamola permettetemi il termine che ha visto un impulso rialzista parabolico che ha corretto quasi del tutto come tipico delle bolle però sta tenendo un costrutto di higher lows è molto importante per il trend poi di BNB perché andare a violare questo low con un lower low rigira completamente il trend è davvero da correzione diventa da un trend anche di ampia portata e in particolare questo bottom questo apparente higher low si sta costruendo con un range molto molto duraturo che è di potenziale quindi accumulazione che vede come range low guardate l'ho identificato sul settimanale 0.0018 e range high questa area questo riquadrino rosso scuro non questo rosso chiaro questo sotto che vedete congiunge con contiene entrambi i top che vedete qui 0.0024 circa qua sotto e qua sopra abbiamo invece dei pool di liquidità dai quali siamo andati a pescare prima del reversal ad ogni tocco con range high e range low bene quindi al momento cosa sta succedendo al momento siamo in uno swing rialzista all'interno del range come possiamo andare a identificare ancora meglio i movimenti all'interno del range allora intanto zoomando sul giornaliero e andando a vedere tra l'altro mi viene in mente che anche quelli che c'erano ieri in diretta su facebook hanno avuto un po di problemi in questo momento a causa mia perché insomma nel live non si vedevano bene grafici e me l'hanno ripetuto qualcosa come 50 volte prima che me ne accorgessi comunque vedete il range middle che è l'altro punto di riferimento di un range è la zona media che fa da come dire definisce il bias all'interno del range in questo caso si identifica anche col point of control perché perché vedete che funge da resistenza supporto 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 zona di insomma retest quindi supporto e insomma abbiamo capito che è un livello chiave qua ci abbiamo consolidato un po intorno eccetera eccetera quindi questo è il livello che per me all'interno del range definisce un po il bias lo abbiamo rotto a rialzo abbiamo questo costrutto di bottom all'interno del range una sorta di test e spalle rovesciato se vogliamo vederlo ovunque breakout retest altro impulso rialzista ma con forza tra l'altro cosa ci combina binance oggi allora ha pubblicato su twitter questa questo clip questa immagine insomma quello che l'è che è un po criptica e molti vedono come un potenziale aggiornamento della piattaforma alla versione 3.0 insomma c'è molta speculazione dietro e inoltre dopo secoli il buon vecchio cc ha fatto ha piazzato un nuovo una nuova launchpad quindi una nuova io e questo di solito è bullish sul breve su bnb ok quindi ha fatto parlare un po di sé c'è un po di bullishness per l'appunto quindi è interessante seguirlo potrebbe essere un'interessante fase accumulativa da giocarsi all'interno del range sempre per esporsi un po su altcoins con entry che potrebbero essere uno qua in questa zona 0.0021 un altro qua sotto 0.00208 giù di lì che insomma sono due supporti meno significativi ovviamente sul daily e un eventuale stop loss alla perdita del range middle che eccolo è qua quindi lo stop loss potrebbe essere alla perdita confermata quindi sotto al range middle con chiusure di più di una candela giornaliera o per chi proprio vuole stra accumulare bnb andare a prendere l'intero range come potenziale bottom ok vista la bullishness arrivata e andare ad accumulare sul prossimo ritracciamento che ci sarà dopo questo impulso rialzista e mettere lo stop loss addirittura sotto i minimi in modo proprio da essere mega tranquilli e questo con un ottico ovviamente più di lungo periodo perché va già a considerare questo questo qui come bottom quindi l'invalidazione ovviamente è se questo non è il bottom quindi nuovi minimi e appunto da holdare per più e più tempo ok che ci può stare perché comunque bnb è sempre un'ottima coin basta direi che questo può bastare se avete qualcosa da aggiungere da chiedere eccetera mi raccomando scrivetevi un bel commento anche solo per dirmi ben ritornato ben ritrovato che mi gasa insomma in questa situazione ci vuole e vi ricordo di nuovo che i live questo video insomma è un po quello che sostituisce il live del venerdì perché d'ora in poi i live adesso non so se già questo venerdì o partiamo dal prossimo li sposterò su twitch la piattaforma dedicata soltanto ai live streaming è una sorta di youtube ma dedicato ai live streaming soprattutto al gaming ma ho visto che c'è anche qualcosa di cripto ma voglio provare a fare questa mossa pionieristica quindi vi chiedo come community di provare a dare un'occhiata a twitch di dirmi cosa ne pensate di twitch mi raccomando ditemelo datemi un feedback se secondo voi sto facendo una cagata o no in ogni caso i miei contenuti non ve li perderete perché anche se farò i live su twitch poi li riposterò su youtube tuttavia io tengo tantissimo all'interazione in diretta con voi quindi vi prego dateci un'occhiata a twitch e spero di trovare più persone possibili della community che abbiano voglia di buttarsi in questa nuova piattaforma e di tornare live tutti insieme alla facciaccia degli algoritmi del tubo ragazzi vi auguro una buona serata e alla prossima